come lo sai mi è successo l'altro giorno, c'è una scuola in canna ah bene ah, ora ti risponde al fuoco, aspetta aspetta ah no mi è arrivato il ruto invece è scuridita, aspetta eh, ecco la ecco la, ecco la oh ma non lo sto volando bravo bravo beh a tempi mia danza spirit oh mamma mia che tempo, guarda che succede, che sonno